La trasformazione digitale è qualcosa che si viene venduto quotidianamente dai giornali e dalla stampa con un taglio abbastanza negativo. Perché vende molto di più la paura? La fine del lavoro è un po' lo spauratio che si viene sbandierato e che effettivamente è legato a queste tecnologie disruptive che stanno sostituendo il lavoro umano. Se ci pensiamo bene, la tecnologia nasce per sostituire il lavoro, se no che senso ha la tecnologia. La leva di Archimede, che è la macchina più semplice che possiamo immaginare, è quella che un uomo da solo solleva il mondo con una leva abbastanza lunga. Quindi non possiamo accusare la tecnologia di fare bene il suo mestiere. Il problema è che la tecnologia si sfida a inventare lavori nuovi, a creare valore in modo nuovo e non più trasformando quello che adesso fanno le macchine. Quindi la seconda parte è la parte della nostra responsabilità. È la parte che tocca la tecnologia, che abilita l'umano, che ci dà più potenza nella creazione dei nuovi lavori.